Era attesa da 167 anni la preziosa pala della Madonna della Cintola che torna a Montefalco per ricongiungersi al prezioso ciclo degli affreschi che il maestro Benozzo Gozzoli realizzò nella chiesa di San Francesco. Sarà inaugurata domani alle 18 nel complesso museale di San Francesco la mostra Benozzo Gozzoli, la Madonna della Cintola, fino al 30 dicembre 2015. La Madonna della Cintola, dipinta intorno al 1450 da Benozzo Gozzoli, allievo prediletto del Beato Angelico, sarà esposta nella città natale e potrà essere ammirata nel suo splendore originale grazie al restauro sostenuto tramite un protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Montefalco, dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, da Sistema Museo e dal Club dei Lions di Foligno. L'intervento di restauro, che ha richiesto quattro mesi di lavoro intenso, è stato eseguito presso i laboratori dei Musei Vaticani. La realizzazione della mostra è stata possibile grazie al sostegno della Regione, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, della Camera di Commercio di Perugia e dell'Accademia di Montefalco, con il contributo di Fabiana Filippi e Cassa di Risparmio dell'Umbria. La produzione è affidata a Sistema Museo, mentre il catalogo, edito da Silvana Editoriale, è a cura di Atele e Breda. All'inaugurazione della mostra interverranno Donatella Tesei, Sindaco del Comune di Montefalco, Catiuscia Marini, Presidente della Regione, Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani e Curatore della Mostra, Francesco Scoppola, Direttore Generale Belle Arti e Paisaggio e Monsignor Giampiero Ceccarelli.